Exoraptics, oggi vi presento questa bellissima Suzuki Swift, 1.012 cilindrata, 83 cavalli, qui in allestimento top. La vettura è ibrida, quindi parliamo di un motore benzina più elettrico. La vettura sicuramente è molto accattivante, è di questo colore rosso. Troviamo subito cerchi di lega da 16, l'accesso anche più lest della vettura. Spostandosi poi sulla parte posteriore troviamo i cristalli oscurati, i sensori di parcheggio e la retrocamera qui sotto. Il bagagliaio è quello qui, con la luce di cortesia sulla sinistra e abbiamo anche il doppio fondo. Spostandosi poi nella parte posteriore della vettura troviamo questi modissimi sedili in tessuto con su entrambi i lati il doppio attacco Isofix. Nella parte invece anteriore abbiamo scritto dei bocchetti dell'aria, la gestione dell'infotainment tramite appunto questo touchpad screen. Subito sotto abbiamo la gestione del clima tramite queste manopoline super comode. USB, presa da 12V, due portabibite, il cambio è manuale a 5 rapporti come il freno di stazionamento sempre manuale. Qui dietro abbiamo un altro portabibite. Passando poi invece sul volante abbiamo la gestione del cruise control e la gestione del volume qui sotto delle chiamate. L'auto è stata immatricolata nel novembre del 2021 e ha percorso poco più di 27.000 km. Trovate queste e moltissime altre auto sul nostro sito ratix.com